L'azienda in questo momento ci ha fatto solo sapere che non intende ancora aprire la cassa integrazione, queste sono comunicazioni che sono state date e quindi gli lavoratori sono stati un po' smistati. Il materiale in questione, nello specifico evaporatori, in una piccolissima parte è arrivato nel pomeriggio. La realtà di Electrolux, maxipolo produttivo diviso tra Milano, Porce e Susegana, diventa esempio dello stallo produttivo che stanno vivendo migliaia di fabbriche in Italia. Una situazione fotocopia di quella che si verificò ad agosto, quando mancavano l'acciaio prima e microchip poi. Intanto la nuova linea di montaggio 4.0 denominata Genesi, inaugurata poche settimane fa, è già ferma. Dove l'azienda ha investito parecchi soldi, già abbiamo avuto un fermo produttivo di due giorni per mancanza della reperibilità del materiale. L'ideale sarebbe appunto di prendere materiale a chilometro zero, perché abbiamo su territorio aziende che producono, una della più famosa è quella che ci ha dato i motori fino adesso, che è l'ACC di Belluno, che rischia di chiudere. Qui ci vorrebbe anche un intervento del governo. Insomma, il materiale in casa ci sarebbe. Destino comune è quello del fermo anche per gli altri stabilimenti del gruppo. Confermato per la giornata di domani e di lunedì 8, queste coperte però da cassa integrazione. La notizia arriva nel pomeriggio. A pesare sugli arrivi la protesta dei portuali a Trieste, ma anche i limiti del trasporto. Non è solo un problema di materie prime, è un problema anche di semilavorati. Perché di fatto la produzione industriale italiana si è specializzata su alcuni settori, lasciando poi fuori dalla porta altri settori su cui non valeva più la pena andare a fare produzione. Per cui determinati tipi di materiali elettrici, la produzione di acciaio e tutta una serie di semilavorati che ormai sono dati in lavorazione a altri paesi. È anche un problema di relazione tra le aziende italiane e le aziende che si trovano in quei luoghi. Perché di fatto, essendo le nostre aziende piccole ed avendo un potere contrattuale ridotto rispetto ad aziende più grandi, più strutturate, vengono messe in coda rispetto alle altre. Da 6 a 14 mesi di attesa per molte piccole e medie imprese, denuncia Confapi. Manca la capacità di integrare la filiera e di fare magazzino. Intanto, nemmeno oggi pomeriggio, sono arrivati i tir a Susegana.